Salve era da una vita che volevo fare questo video, ma solo oggi lo sto realizzando. Contiene l'ultima video-intervista di Brando Lee. Questa VHS la comprai nel 94-95. Uno degli horror più belli degli ultimi tempi, un perfetto film maledetto, qualcosa che difficilmente si dimenticherà. L'affascinante labirinto di una notte di pianto, di sangue, da cui non è possibile fuggire. Uno dei migliori incubi della stagione. Trama. Un corvo bussa con il becco su una lapide del cimitero. Sta chiamando qualcuno. E' passato un anno da quella maledetta notte in cui Eric e la sua amata sono stati straziati dalla follia omicida di Top Dollar. E' dei feroci criminali al suo servizio, ma adesso è arrivata. E' la notte del grande ritorno, della resa dei conti. E' la tua notte. Eric, il corvo che volteggia alto nella notte, ti aiuterà a portare a termine la tua missione in nome dell'amore e della vendetta. vero, cult movie? Che io ho, io ho tutto. Ho anche tutti i racconti di Edgar Allan Poe che non c'entra, ma c'entra. Mai, mai più, mai più. Che fisico. Che fisico. Adesso vi faccio un po' lo sguardo da Bob De Niro, no? Da Brandon Lee. Bene, bene, bene. Racconti di cinema, il corvo di Alex Poyas. Alex Poyas, con Brandon Lee. Era logico che, visto l'escursus a tematica assai cupa, di molte mie recensioni, andassimo, andassi, prima o poi, a parare sul corvo. Pelicola di culto che spopolò nei cinema, nell'ora, ma è lontano per voi. Per me il tempo non esiste. Oggi è ieri e domani è già dopodomani. Lontano anno 1994, sin da subito accolta con estremo clamore, soprattutto dagli adolescenti dell'epoca, per ragioni molteplici e diversificate che enumereremo puntigliossamente nelle righe seguenti. Berro, peraltro anche per via di una fortuita quanto tragicamente concomitanza, diventi parossisticamente stupefacente, come la morte sul set del suo protagonista. Adesso parlo un po' così. Con la voce, viene doppiato da Luca Barbur, voce Luca Barbur, il compianto Brandon Lee. Al mio segnale fatele con le puttanate il gladiatore di sorprendente opera prima, dopo tantissimi celebrati cortometraggi di questo Proyas. Regista Kay Noi, nonostante il successivo e addirittura superiore Dark City, prometteva, dato appunto questo strabiliante, seppur in perfetto esordio, un futuro cineastico decisamente migliore. Invece, dopo essere stato finanziariamente frenato in molti suoi ambiziosi progetti, vedi l'adattamento mai compiutosi di Paradiso Perduto, che non è il film di Alfonso Cuaron con Ethan Hawke, e Gwyneth Paltrow, Anne Bancroft e Rob Gennaro, Nal Paradiso Perduto da Milton, che non è al pacino dell'avvocato del diavolo. Con Bradley Cooper nei panni di Satana, del diavolo, insomma, ha susseguentemente annasparto in produzione assai mediocre, per non dire sballate, potevo dire sbagliate, invece ho detto sballate, non le piace, signore? Adesso si beccherà un coltello in pancia. Segnali dal futuro, che poi non è neanche così male, soprattutto la prima mezz'ora non è male, c'è una bella scena in pieno sequenza, dell'aereo che precipita con questo Nick Cage, prima che si sputtanasse in produzioni mediocre, eccetto Mandy Mandy, Mandy Mandy, Mandy, che non è per quelli della mia generazione, quello del programma, ve lo ricordate, Re per una notte, il programma, non il film di Scorsese. Mandy Mandy si chiamava, Mandy Mandy, per non dire sballate, se non kicce, inguardabili, come il pasticciaccio Gods of Egypt. Dicevamo del Corvo, pellicola che a distanza di quasi 25 anni, oramai faccio bene i calcoli, siamo usciti nel 1994, siamo nel 2019, no, sì, 25, sì. Dalla sua uscita a tutt'oggi, nonostante l'alternarsi a cavallante di mode, tendenze del ciclopico mutare stravolgente, non travolgente, proprio detto stravolgente, nel senso che ci ha stravolto, della tecnologia e degli stilemi del cinema, mantiene intattamente integra e inamovibile, appunto, la sua nomea giusta di cult, 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 cult. Il termine cult, allora, chiariamoci, sapete benissimo, non è quasi mai sinonimo di capolavoro, talvolta lo è, ma quasi mai. Ben si assume, come per il Corvo, una pellicola subitanemente idolatrata, come abbiamo detto, la definizione di qualcosa di magicamente epocale, iconico, intoccabile e generazionale, che ha determinato fin da principio, presso i suoi affissionetti, i suoi affissionetti, stimatori irriducibili, una sorta di venerazione esaltante, continuando puntualmente a stupefare magneticamente loro stessi, perfino a distanza di svariate, anali, innumerevoli visioni. Ok? Basi pensare a The Rocky Horror Picture Show, oppure a The Blues Brothers, film che a dispetto delle firme comunque autorevoli, soprattutto per The Blues Brothers Landis, John Landis, John Landis, non possiamo cinematograficamente considerare masterpiece a tutti gli effetti, eppure tenendo indubbiamente conto del loro ascendente, miracolosamente subliminale, del loro fulgurante potere seminale, seminale che non è solo lo sperma, in gergo cinematografico si intende per seminale, non lo troverete nel vocabolario treccani, devoto a Oli, sì, lei donna devota al Signore, non troverà la parola seminale usata in questo senso, perché è dal punto di vista, diciamo, propriamente dizionaristico, sbagliato, seminale, seminale lo sperma, viene, diciamo così, tradotto, tra virgolette, come detto, in gergo, in gergo cinematografico, per dire qualcosa che ha seminato, ha partorito altro, diciamo, della loro carismatica, fortissima influenza nella mente, nell'anima degli spettatori, alla fine capolavori lo sono diventati, a prescindere dalle loro evidenti pecche, e dai loro parziali, immancabili difetti. Il Corvo non è forse un capolavoro, nemmeno un grande film, ma un film che nessuno di noi amanti, più o meno raffinati la settima arte, può trascurare o liquidare in 448, 448 quanto fa? Fa 8, 448, 448 fa 8, per le stesse motivazioni, poc'anzi enunciate. Il Corvo, la trama ve l'ho già detta, potete leggerla, minuziosamente nel link, nei link, nei link della descrizione, diciamo, è un film abbastanza giustizialista, infantile, poerile, anzi, adolescenziale, con questa morale vendicativa di fondo, abbastanza discutibile, ma è una strana, quanto affascinantissima mistura di irresistibile, maliarda, inattaccabile, forza visiva, accattivante, amalgama, appassionante. Una florida cornucopia, roboante, dalle mille sfumature cromatiche, vivamente torbide, e incantevolmente ipnotiche, che al di là del suo essere, ha conti fatti nient'altro, che un videoclip, dilatato a lungometraggio, fatto in colonna sonora, come poi dirò, in vero, non è tanto di simile, rispetto a quelli che impazzavano, negli anni 90, su MTV, e si continua comunque, comunque, a sbalordirci, emozionarci. Sapete la trasposizione, del fumetto omonimo, di James Oba, Bar, 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 tu dove sei, Deber, 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 e tu invece, fai il barista, ma bari sulla mancia? Ah, lei bara, ah, lei bara, e a proposito di bare, c'è questo corvo, che si appoggia, si posa, diciamo così, sulla, più che sulla bara, sulla lapide, lapide, tombale, vabbè, questo qui, Eric, insomma, era lì che, si voleva fare la ficcata, con la donna, con la sua donna, io non ho capito comunque, questo film, questi si sposano, ma scoprono la sera prima, ma, di solito, vabbè, comunque, c'è questo piccolo, dettaglio, abbastanza, abbastanza, poco, poco, poco trascurabile, sì, Eric e, e Shelly, il giorno dopo, devono sposarsi, e la sera prima, però, già, ci vogliono dare, e chissà quante altre volte, ci hanno dato, anche prima, vabbè, in questa Devil's Night, ne succedono, di cotte, e di crude, e soprattutto, è una notte, molto cruda, molto crude, e molto crudele, ammazzano, sia Eric, che la sua ragazza, quasi sposa, quasi sposa, però, non è diventata sposa, è rimasta solo, un'eterna, 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 e anche eterna, è buona, questa attrice, Sofia, Sheena, questa è molto buona, sì, sì, è buona, è buona, e, diciamo che, dove erano rimasto, mi sono perso, mi avete fatto perdere, con, con, con la figa, Shelly, vabbè, andiamo avanti, vabbè, lui crepa, lei viene addirittura, stuprata, ma, allora, il film diventa una sorta di cane di paglia, di Peckinpah, cane di paglia, si, si incazza, Eric, si incazza, si risveglia, e vuole vendicarsi, contro tutti i cattivi, che, che fanno, che fanno, capo, è il capo, è il capo, sì, sì, il capo è, top dollar, Michael Wicott, secondo me, il più grande attore di cinema del mondo, soprattutto, non, non tanti Robin Hood, quello con Kevin Cost, e bensì, in Disastro a Hollywood, è un personaggio alla Falotti, quindi, in Disastro a Hollywood, lui, presenta, la sua sceneggiatura, il suo progetto, alla, la produttrice, che glielo castra totalmente, lui si incazza, lui, lui impazzisce, impazzisce, va bene, la fotografia del, del grande, lo sapete benissimo, colonna sonora da brividi, che contiene pezzi immortali, dei Nani, Hich Nails, con quello lì, Threat Red Snore, che anche nella colonna sonora di The Funnel Meter, non è male, Threat, Threat Razzle, Vabbè, poi ha lavorato con Fincher, Social Network, dei, 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 abbiamo detto, il film è tristemente leggendario, perché Brandon Lee fu colpito accidentalmente, ma siamo sicuri che poi si è trattato di un incidente, secondo me l'hanno fatto, l'hanno fatto apposta, ha detto ammazziamo questo Brandon così ci facciamo i soldi con, vabbè, un colpo di pistola durante le ultime riprese, morì quasi subito dopo in ospedale, le scene che non aveva potuto finire di girare, si avvalsero di avaguardistici effetti speciali, CGI, e anche di una ben dissimulata controfigura, insomma, più cult di così si muore, ci vediamo alla prossima, e vedete di fare i bravi figliuoli.